Innanzitutto sono molto felice di essere qui, io sono fresco fresco di nomina di coordinatore però di fatto rappresento un dottorato che ha storicamente un ruolo molto importante all'interno del nostro Ateneo e anch'esso è diciamo oltre il 38esimo ciclo ma ha subito diciamo nella sua evoluzione tantissimi passaggi, tantissime trasformazioni devo dire che quando sono arrivato in questo Ateneo era il momento in cui questo dottorato si trasferiva molto all'aspetto strettamente collegato alla salute e alla medicina ricordo il ruolo importantissimo del professor Pino Tagliallatella che ha dato un contributo molto importante e successivamente il professor Ciro Costagliola che tra l'altro ha introdotto molto di più al concetto che dà il nome a questo dottorato cioè il concetto di traslazione in un ambito della medicina con una visione molto legata alle applicazioni cliniche la traslazionalità evidentemente è un tema trasversale e riguarda l'idea di trasferire dalla ricerca di base le innovazioni al mondo delle applicazioni che riguardano sì sicuramente il paziente ma arrivano attraverso le linee guida, le strutture, l'industria moltissimo anche al condizionare le polisi nel contesto della gestione della salute e quindi uno degli argomenti più vasti e più ampi storicamente importantissimo sicuramente nuovo nella sua attuale accezione il coordinatore che mi ha preceduto il professor Sarchiapone è stato un passaggio importantissimo nel contesto di quelle che erano le nuove innovazioni collegate a una cascata di finanziamenti in area soprattutto di tipo europeo le borse finanziate PON verso l'idea dell'importanza dell'industria nel concetto della traslazione e questo dottorato è stato fino al precedente ciclo un dottorato che era estremamente arricchito dalla presenza della bioingegneria e sicuramente digitalizzazione, telemedicina e aspetti collegati all'innovazione tecnologica hanno caratterizzato questa contaminazione negli ultimi anni noi abbiamo ottenuto tantissime borse ogni ciclo praticamente borse PON aggiuntive e sono molto felice di aver condizionato alcune di queste tra l'altro una cosa molto bella anche per il territorio sono state le borse aggiuntive quelle collegate alle aree interne abbiamo due progetti di telemedicina, uno lo gestisco direttamente io a Salcito nell'Alto Molise meravigliosamente dedicato al tema della prefragilità al monitoraggio di quello che è uno dei momenti di passaggio più importante dalla salute verso la malattia in una logica non solo di innovazione tecnologica ma soprattutto di gestione della salute che è uno dei grandissimi temi su cui stiamo lavorando ecco, il professor Sarchiapone di fatto mi ha lasciato il ruolo di coordinatore e questo passaggio è coinciso anche grazie al successo di questo dottorato a uno split, la professoressa Santone poi vi parlerà di tecnologia e innovazione in medicina che è la parte più bioingegneristica che è derivata dal dottorato originale e cosa succede quando si splitta una cosa così importante? è importante ritrovare anche un'identità all'interno del nostro dottorato noi abbiamo puntato sempre storicamente all'internazionalizzazione e devo dire che io quando sono arrivato qui il primo dottorato che ho avuto erano 12 anni fa adesso tra l'altro membro del collegio dei docenti di questo attuale dottorato in RTDB quando venne da me mi disse professor una cosa deve fare mi deve mandare all'NIH poi trovammo un piccolo compromesso e l'ho mandato a Baltimora ed è rimasto lì e con l'istituto Piumandairologi continua una meravigliosa collaborazione quando io ho fatto il dottorato di ricerca credo di aver realmente capito cosa vuol dire l'indipendenza ecco la specialità mi ha dato skills ma il dottorato mi ha permesso di costruire una mia personale identità sui miei progetti di darmi forze ed è quello che noi dobbiamo insegnare all'interno del dottorato siamo riusciti non solo a creare ponti meravigliosi con varie istituzioni Stati Uniti ma un po' tutta Europa costruendo collaborazioni che con la scusa del dottorato continuano ancora adesso ma siamo stati molto bravi ad aprirci al mondo straniero come elemento di attrattività a memoria oggi abbiamo io per esempio personalmente un dottorando pakistano una meravigliosa dottoranda kurda meravigliosa dal punto di vista della sua capacità di fare ricerca e un dottorando kazako queste riguardano quelli che in qualche modo coordino io quindi per farvi capire che non si tratta solo dell'Europa ma siamo riusciti ad aprire l'attrattività realmente a tutto il mondo in un contesto delle nuove prospettive collegate al PNRR sicuramente ridarci un'identità e soprattutto in una logica industriale è una delle mission che sto cercando di portare avanti da coordinatore in questa idea sto cercando al di là del fatto che i 20 membri del collegio portano un po' tutte le competenze dell'area medica all'interno del nostro dottorato e senza escludere aspetti collegati alle patologie infettive all'igiene, a neurofarmacologia che sono tematiche molto trattate nel contesto del PNRR ci siamo molto dedicati in una logica traslazionale soprattutto di attrattività nei confronti industriali ad aspetti che riguardano soprattutto la medicina di precisione moltissimo le sfide nella gestione dell'invecchiamento e anche io sono un ordinario di Med49 moltissimo l'importanza della nutrizione sostenibile in questa ottica siamo stati da subito molto seguiti abbiamo immediatamente sviluppato una convenzione con un gruppo industriale direi abbastanza rilevante che è Nestlé e che ci ha cofinanziato da subito due dottorati industriali nella logica soprattutto di costruire una nutrizione traslazionale una medicina traslazionale mirata alla gestione della salute e questo concetto resta uno degli elementi più attrattivi del prossimo futuro noi siamo stati completamente travolti da una pandemia che ci ha rimandato alla paura delle malattie infettive delle patologie acute, della gestione di emergenza ma non dobbiamo dimenticarci che in quelli che le Nazioni Unite hanno identificato come gli elementi chiave per un futuro sostenibile dell'umanità resta un perno importante la gestione della salute perché la popolazione è invecchiata le patologie croniche dell'invecchiamento rappresentano ancora oggi e addirittura in maniera ancora più strutturata dopo il Covid il 90% della morbilità e quindi lavorare su questo aspetto resta una delle tematiche che porteremo molto avanti all'interno del nostro dottorato di ricerca io vi ringrazio molto e spero che sarà veramente una storia di ulteriori successi grazie